Lui è Mongey, un cucciolo di Jack Russell di soli tre mesi ospitato dallo scudo di Pan. Ovviamente noi siamo solo gattile, però a volte ci imbattiamo in situazioni anche per i cani difficili. Purtroppo il cagnolino ha una malformazione cardiaca. Da qui la raccolta fondi per sostenere le spese dell'operazione. L'intervento sarà infatti molto costoso. Dopodiché si cercherà casa per lui perché è giusto che abbia una famiglia che gli voglia bene. Facciamo una raccolta fondi perché l'operazione costa parecchio. Ancora non abbiamo tutto il resoconto perché siamo alle prime ecografie del cuore da fare. Poi andremo avanti, cercheremo di farla prima possibile e comunque eviteremo informati di qualsiasi movimento. Chiunque vorrà dare una zampa a Mongey potrà farlo con una donazione all'associazione Lo Scudo di Pan. Grazie. Grazie.